buonasera e bentornati ad una nuova puntata di poetando gli appuntamenti di agosto sono selezioni delle puntate che voi avete prediletto visto e poi ricercato ancora sul nostro canale youtube e così questa è la volta di luigi balocchi con il suo ultimo libro in dialetto lombardo dal titolo cuore corvo ricordiamo che luigi balocchi questa notizia di pochi giorni fa è il vincitore del premio di poesia dialettale assegnato dalla famiglia legnanese e quindi in autunno ritirirà questo ambitissimo premio così riascoltiamolo con il suo cuore corvo e l'appuntamento con la poesia è sempre il martedì alle ore 20 su rete 55 buona visione l'ideologia della città l'ideologia della città l'uomo deve smettere di stare in città e riappropriamoci quindi delle aree rurali che stanno intorno all'agglomerato urbano ma sicuramente ma il problema della lomba è perché adesso andiamo in politica Verino però la poesia è un atto politico la poesia è un atto politico boh vabbè Peruvio adesso Verino fa all'appagio il discorso è proprio questo mi vovo avanti a fare chirocchi mi fu cultura mi scrivi mi fu letteratura e la mia letteratura parla di chirocchi la mia letteratura è un antisistema grazie a tutti